Voglio provare a dare una risposta ad una domanda che ho ricevuto nei commenti ad un video su YouTube legato all'elaborazione fotogrammetrica con il software Struct from Motion Agisoft Metashape e riguarda alcune criticità che si riscontrano nel creare orto mosaici di elementi di fronte ai quali ci sono degli ostacoli. Il caso più tipico, ed è proprio quello su cui verte questa domanda, è relativo ad una facciata, magari acquisita con delle immagini da drone, di fronte alla quale ci sono degli alberi e al momento della creazione dell'orto mosaico, nonostante si sia ripulito il modello tridimensionale, nella facciata rimangono gli alberi. Questo è abbastanza normale in tutto processo di elaborazione di un orto mosaico, è una cosa che si riscontra anche nella creazione della texture e in questo video, più che darti una soluzione, perché ti anticipo che non è facile gestire da un punto di vista della soluzione a questo problema, questa criticità, provo a darti delle indicazioni su come provare ad arrivare al tuo risultato in modo tale che quando sarai in campo saprai già che potresti incorrere in determinati problemi e magari potresti fare una presa, un'acquisizione leggermente mirata al tuo output finale. Comunque andiamo dentro Metashape, dove ho fatto un'elaborazione abbastanza veloce, togliendo parecchie foto dal mio progetto, di un ambito urbano, peraltro l'avevo già condiviso in un altro video in questo caso, chiaramente non legato al tema di cui ti parlo oggi, dove ci sono delle fotografie aeree, fotografie da drone, di una porzione di un fabbricato che è stato oggetto di rilievo e per il quale adesso vorrei provare a creare l'orto mosaico della facciata principale. Allora, proviamo ad andare un attimo all'inizio del processo, all'inizio del processo, o meglio, il processo inizia con l'allineamento delle immagini. Ti faccio vedere magari, o forse lo capisci anche guardando la posizione delle camere, o forse possiamo anche scorrere camera su camera. Ok, vedi che queste sono alcune camere del progetto, alcune immagini del progetto. Avendoci l'albero davanti, io ho fatto delle fotografie, ti anticipo che l'orto mosaico era sì un output di questo lavoro, ma non quello principale, per cui non c'è dato molto peso in fase di acquisizione. Ho fatto delle fotografie che cercassero di prendere più possibile parte libera di facciata rispetto alla posizione dell'albero. E quindi, in questo dataset ci sono fotografie principalmente inclinate, vedi, di sbieco, secondo varie angolazioni. Non ho fatto fotografie di fronte all'albero che prendesse direttamente la facciata, perché avrebbe avuto poco senso, avrei ripreso soltanto ed esclusivamente l'albero. Queste sono tutte le fotografie del progetto. Qua c'è anche un po' di copertura. Eccoli qua. Ho cercato di prendere più elementi possibili, o meglio, ho cercato di inquadrare nelle immagini più cose possibili che fossero inerenti la facciata. Dopo l'allineamento delle immagini, ho creato la nuvola di punti densa. Adesso qua ho rifatto un po' il progetto con parte delle immagini, perché poi c'erano delle immagini che andavano anche dall'altra parte. Ho creato una nuvola densa in qualità bassa, qualità media, scusa, e come vedi, se guardo la nuvola densa al netto di qualche increspatura della superficie, direi che la facciata, tutto sommato, da un punto di vista della geometria, esiste. Cioè, al di là del fatto della parte calpestabile, qua c'è una sorta di piccolo cortile interno, un cortile esterno, ma ancora all'interno della proprietà, al di là di questa parte la facciata esiste. Qua ci sono degli scali che conducono alla porta, e quindi, tutto sommato, la geometria è ok. Per il mio lavoro questo era più che sufficiente, ma se io dovessi creare un orto mosaico di questa roba qua, i problemi possono essere per niente trascurabili. Perché? Perché c'è questa roba qui, che è questo albero, che mi crea un grosso problema. Allora, facciamo gli step classici, quelli che si fanno normalmente quando si creano questi prodotti, ossia, creo una mesh. Esiste già la mesh, l'ho già fatta. Si crea una mesh, perché? Perché l'orto mosaico ha bisogno di una superficie su cui appoggiarsi. Il dem è una superficie che potrebbe aver senso, ma per gli elementi verticali è un po' poco forte rispetto alla mesh, e allora creo una mesh. Ho creato una mesh, un modello 3D, utilizzando le mappe di profondità. Modello 3D che chiaramente ha abbracciato un'area molto più vasta rispetto a quella che mi interessa, perché le fotografie abbracciavano, interessavano delle parti esterne alla facciata del fabbricato. E quindi, anche nel modello tridimensionale, se io lo vado a vedere, tutto sommato la geometria della facciata esiste. Allora, creiamo l'orto mosaico. Prima di creare l'orto mosaico io ripulisco il modello digitale, scusa, la mesh, perché altrimenti la creazione dell'orto mosaico verrebbe spalmata su tutta sta roba qua che a me non interessa. E allora, ritaglio la mesh. Ti faccio vedere un paio di step. Allora, il primo step che faccio è prendo la mesh e ne tengo soltanto una parte, questa parte qua. Ok, direi che va bene, magari posso aumentarla un po', posso abbracciarla un po' di più. Tengo volutamente dentro l'albero. Edit, Invert Selection, Cancello. E qua ho la mia mesh che verrà utilizzata per provare a creare l'orto mosaico. Il modello, a questo punto, è molto più focalizzato sull'area che mi interessa mappare in termini di orto mosaico, e quindi Workflow. Esiste già l'orto mosaico che ho fatto prima, ma anzi lo elimino perché non ho fatto il ritaglio della mesh, quindi faceva un po' schifo. Workflow, Build Orto Mosaic. Ah, prima mi devo mettere in una vista che sia rappresentativa, adesso non sto tanto a creare un sistema di riferimento che sia effettivamente solidale con la facciata. permettimi questa velocità in questo passaggio, qui vado molto veloce cercando di mettermi in una vista che tutto sommato può essere rappresentativa, e poi gli dico planare, quindi type planare, current view, lasciamo tutto quanto invariato, gli dico ok, e lui cosa fa? Orto rettifica le immagini. Già questa cosa qua è il preludio a quello che succederà dopo. Cioè, lui mi sta dicendo, io sto rettificando, orto rettificando le immagini, tutte le immagini. Tutte le immagini e quindi tutte le immagini contengono la maggior parte, ma direi quasi tutte, gli alberi. Quindi lui rettifica tutte le immagini all'interno del suo dataset. E se vado a vedere l'orto mosaico, quello che mi trovo è questa roba qua. Mi trovo l'orto mosaico tutto sommato ok per la parte che non è coperta dall'albero, ma quando vado a vedere la parte che è coperta dall'albero, la cosa è evidentemente questa. Un po' poco significativa per la rappresentazione bidimensionale fotografica di questa facciata. E allora, mi sono dimenticato di farti vedere la domanda estesa che mi è stata fatta. Te la faccio vedere adesso perché poi è interessante e spiega anche lo step che farò successivamente. La domanda peraltro che mi ha fatto Stefano Lecca, che mi dice Ho avuto l'incarico di rilevare una piazza in un comune con presenza di qualche alberatura. Nonostante vengano eliminate le piante dalla nuvola di punti densa o dal modello 3D, in qualsiasi modo io tenti di risolvere, quando eseguo l'orto mosaico, non riesco a visualizzare la texture sotto le piante. Esiste un modo per riuscire a visualizzare nell'orto mosaico ciò che sta sotto la chioma delle alberature? Questa è la domanda che ti ringrazio per la pazienza di aver aspettato fino a questo punto per leggerla, avrei dovuto fartela vedere prima, ma spiega o mi serve per introdurre quello che farò adesso. Ossia, ho questo albero nel modello tridimensionale, vedo che nell'orto mosaico mi ritrovo quest'albero. Una cosa che verrebbe spontanea a fare, e l'ho fatta anch'io le prime volte, è dire ok, vabbè, c'è l'albero nell'orto mosaico, vuol dire che se tolgo l'albero dal modello, l'orto mosaico, tutto sommato, andrà bene, perché tolgo questo elemento, e allora lo faccio. Prendo questa roba qui e la tolgo con una free form selection, quindi seleziono più o meno l'albero, e elimino questa parte. Già che ci sono, elimino anche un po' di roba qui, in modo tale da avere più o meno lo stesso in gomma planimetrico, non che sia molto significativo. Ho eliminato questa cosa. Avendo eliminato questa cosa, se vado a vedere il modello tridimensionale, il modello tridimensionale è più pulito nella vista, nell'ambito, nello spazio 3D di Metashape rispetto a prima, perché non ho più l'albero. Ma se io vado a creare di nuovo l'orto mosaico, e gli chiedo di mettere questo come non di default, e rigenero un nuovo orto mosaico, mi rimetto più o meno nella solita vista, e anche qua veramente vado un po' a caso, ma non è questo significativo per questo video. Workflow, build orto mosaic, planare, current view, ok. La domanda che ti faccio, o meglio per provare a farti ragionare su quello che sta succedendo è, ho fatto qualcosa sulle immagini del dataset? Non ho fatto niente sulle immagini del dataset, l'unica cosa che ho fatto è togliere dal modello tridimensionale una parte, questa alberatura che mi costituiva un ostacolo. Ma il modello tridimensionale, nella creazione di un orto mosaico, e lo stesso vale per la creazione di una texture, è soltanto un appoggio, è soltanto una superficie, su cui il software spiaccica le immagini che vengono orto rettificate. Se io non faccio niente sulle immagini che vengono processate, quello che ritroverò in output è una cosa che sarà molto simile a quello che avevo precedentemente. Questo è il nuovo orto mosaico, questo è quello precedente, questo è quello nuovo. Allora è cambiato che qua sotto ci manca una parte, perché probabilmente il ritaglio mi ha inficiato la creazione di questa, della parte inferiore all'alberatura, ci può anche stare che la posizione che io ho scelto nel secondo caso, o meglio primo rispetto al secondo, fosse diversa, perché non ho fatto una proiezione rigorosa, ma nel secondo caso, nonostante io abbia tolto l'albero dal modello tridimensionale, l'albero continua a rimanere all'interno dell'orto mosaico. Ma perché il problema, o meglio, il software non sa che deve togliere degli elementi, che non deve trattare delle parti, degli elementi all'interno delle immagini, fin tanto che io non gli dico di gestire in qualche modo, in un modo diverso, i contenuti dentro ciascuna immagine, lui non può fare niente di diverso, e nonostante io abbessi tolto l'albero dal modello tridimensionale, lui questo non riesce a superarlo, perché prende le immagini che sono quelle che contengono il dato che viene utilizzato per creare l'orto mosaico, e le proietta, dopo averle orto rettificate, su quella superficie. La stessa cosa suggerisco la texture, perché la texture deriva dalle immagini, e se io non dico al software di eliminare alcune parti dalle immagini, o togliere delle immagini, allora lui prenderà la totalità delle informazioni che ci sono lì dentro, e superficie o non superficie, albero o non albero, le appiccicherà a quello che si trova di riferimento come modello tridimensionale. Quindi come si può superare questa cosa? Come si può gestire un dato di questo tipo per creare un orto mosaico? Allora, le strade possono essere tre. Una strada è quella che, se non ti interessa avere la qualità fotografica, ma ti interessa avere soltanto un qualcosa su cui disegnare eventualmente in CAD, quello che potresti fare è utilizzare la nuvola di punti, tolti gli alberi, quindi puliti dagli alberi, nello stesso modo in cui ti ho fatto vedere aver pulito gli alberi dal modello tridimensionale, e usare quella come riferimento, ho fatto un video sulla gestione di una nuvola di punti per creare un pseudo orto mosaico, usare quella come riferimento per portare in CAD un qualcosa da ricalcare. Altrimenti, se invece ti serve avere l'informazione fotografica, beh, le strade rimangono due. Le strade sono due e sono di questo tipo. Una strada può essere quella di, se ci sono, se ci sono, quindi non è detto che ci siano, delle fotografie che hanno al loro interno soltanto le parti di facciata o le parti di elemento di cui ti interessa avere l'orto mosaico o la texture, utilizza soltanto quelle fotografie disabilitando tutte le altre e fai sì che il software lavori soltanto su quelle immagini. Nel momento in cui disabiliti un'immagine, disabilitare un'immagine vuol dire, dice al software non usare più quelle immagini da adesso in avanti per tutti i processi che ti chiederò di fare. Questo vuol dire che tutte le elaborazioni, incluse la creazione dell'orto mosaico, non interesseranno più quelle immagini che avevano il disturbo al suo interno mentre verranno utilizzate soltanto le immagini pulite, diciamo così. Ho detto se ci sono queste immagini perché non è così scontato che ci siano. In questo caso io non ce l'ho le immagini. In ogni immagine che apro mi ritrovo sempre in qualche modo quest'albero tra i piedi. L'altra soluzione e anche in questo caso non è detto che risolva il problema, è se proprio non hai delle immagini senza alberi, allora quello che potresti provare a fare è mascherare queste fotografie. Ora non mi addentro nel processo di mascheratura delle immagini perché magari ci facciamo un video a parte, anzi c'è già un video nel mio canale YouTube, ma posso fare neanche qualcuno di più specifico, si tratta di dire al software guarda che ci sono delle aree di questa immagine che non devi prendere, non devi considerare, non le utilizzare e allora lui non le utilizzerà neppure nella creazione dell'orto mosaico. Ma penso che non sia complesso capire quanto sia invece complesso, scusa il gioco di parole, mascherare un'immagine di questo tipo quando gli elementi che devi scontornare, perché si tratta di dire al software di fare uno scontorno per bordi, sono elementi come le foglie e quindi non è per niente banale fare una mascheratura delle immagini di questo tipo. Credo di non averti dato la soluzione, ma ti ho anticipato che in questo video non ti avrei dato una soluzione perché non è per niente semplice. Spero però che gli spunti che ti ho provato a dare, avendoti spiegato il perché succede questa cosa, siano sufficienti per aiutarti o per permetterti di gestire questo problema e questa criticità una volta che ti ci ritroverai se mai ti ci dovessi ritrovare di fronte. Se hai qualche altro dubbio atpaolocoradeghini mi puoi scrivere su Telegram in modo tale da potermi dare degli altri spunti per fare ancora un po' più chiarezza su queste tematiche. Grazie per aver visto questo video, ti do l'appuntamento al prossimo, ti saluto fortissimo, ciao!